Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere gli ultimi arrivi che ci sono stati inviati da Asmode, che ancora una volta ringrazio immensamente e a distanza di due anni che ci collaboriamo e soprattutto il primo editore italiano che ci ha iniziato a mandare giochi a casa, è stato un onore disumano e continua a esserlo come il primo giorno. Quindi ragazzi, davvero, grazie, grazie, grazie immensamente. Vedete qui davanti la nuova edizione, la seconda edizione di Zombicide. Ragazzi, mi tremano le mani, mia moglie l'ha visto, manca posso mettere a piangere una scatola disumana, non vedevamo l'ora. Da quest'altra parte la ristampa di Pandemic, che Pandemic ci siamo sempre girati intorno, non abbiamo, non siamo mai riusciti a provarlo. Vi giuro, l'ho visto dappertutto, fra poco anche nei cartelloni pubblicitari a Livorno, non sono mai riuscito a provarlo e qui nel mezzo, Buchino l'ho lasciato a casa, insomma perché sta per uscire comunque ora nel mese di aprile, ma non hanno fatto in tempo a mandarcelo. Ci dovrebbe essere Dune Imperium, che non vedo l'ora perché se vi ricordate, regalato dal mio amico Ryuzenka della Gale Force 9, che ringrazio di cuore Ryu, se è il meglio, grazie davvero da morire, vi avevamo portato sul canale Dune il gioco strategico, ma ne hanno fatto un'altra edizione che praticamente è una via di mezzo con un wargame, quindi non vedo l'ora di provarlo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Oggi vi faccio unicamente una veloce presentazione perché poi, lo sapete, nel nostro stile di ogni gioco ci facciamo direttamente il video, il cosa ne penso, con unboxing e tutto compreso, e appena riusciamo, che poi apra una piccola parentesi, anche gameplay, stiamo facendo tanti gameplay, causa Covid, tramite i tabletop simulator, che dal vivo siamo in zona rossa, non si possono fare, ma poi anche per lo spazio, perché ragazzi lo spazio veramente in questo soppalco di 10 metri quadri è finito. Quindi ci stiamo trasferendo in un'altra casa, aspettiamo di aver finito tutti quanti gli spostamenti, avere un ufficio un po' più grande, a quel punto registreremo gameplay direttamente con i giochi. Per il momento è già impossibile, comunque facciamo sempre approfondimenti, chiarimenti, magari perché no, anche qualche partita tutorial direttamente con tabletop, e cosa ne penso. Quindi farò un cosa ne penso, li avvicino, di questi due giochi separatamente. Pandemic, penso, non abbia bisogno, nessun dei due, comunque Pandemic non abbia bisogno di presentazioni, perché è un gioco cooperativo, di cui hanno fatto tantissime versioni, addirittura anche le versioni Legacy. Le versioni Legacy, in gergo dei board game, giochi da tavolo, sono quelle che, non vi dico una volta giocate, non le puoi più giocare. Comunque, diciamo che la longevità è ridotta per un gioco da tavolo, per un'esperienza ludica sicuramente molto più coinvolgente ed immersiva. Un po' come un escape room, per farvi capire. E' un gioco dove noi saremo chiamati, che tra l'altro calza anche bene in questo periodo, e ci dovrebbero aver fatto anche un'espansione o qualcosa del genere, a fermare un virus che sta distruggendo il mondo, sta prendendo tutto quanto il nostro ben amato pianeta, e noi dovremo, in tutte le maniere, trovare una cura per fermarlo, o comunque arginarlo. Sia con scienziati, sia con l'esercito, dovremo riuscire comunque a tenerlo sotto controllo. Ed è un gioco cooperativo, qui non si rema uno contro l'altro, ma un gioco appunto cooperativo, dove facendo squadra dobbiamo risolvere questo problema pandemico a livello mondiale. Ed è un gioco abbastanza veloce, intuitivo, facile come regola e tutto quanto, e di cui hanno fatto tante espansioni. Hanno fatto anche un'espansione ambientata al tempo dell'antica Roma, ad esempio. O hanno fatto altre svariate espansioni. Se non erro c'è anche qualcosa a tema Cthulhu, Lovercraft, insomma. È il classico gioco che, un po' come Talisman, si adatta veramente a tutto. E da quest'altra parte Zombicide seconda edizione, di cui per ora non vi faccio vedere niente, perché tanto vi voglio fare un bel video con unboxing e tutto. Ci sono delle miniature dentro. Mia moglie lì dietro. Come sono le miniature dentro Zombicide seconda edizione? Guarda, toccherebbe farle vedere, anche quelle della prima edizione, per far vedere la differenza, sono stupende. Ve le faremo, già quelle vecchie, queste qua, noi ce le abbiamo quasi tutti, tutti no. Comunque con la prima edizione, a parte che la scatola è il doppio di dimensione, perché sono proprio più grandi in scala, dovete vederle accanto a quelle della prima edizione, che già erano belle, ragazzi, sono paurose. Paurose, addirittura gli zombie caratterizzati, c'è lo zombie clochard, ad esempio, che cammina tutto vestito male, con l'abito in strappati, c'è un cartello legato al collo, con delle scritte sopra, c'è delle cose disumane. Nel vecchio Zombicide dentro c'era un abominio, qui ce ne sono quattro e tutti differenti, cioè ogni abominio non è copia e colla, in posizioni differenti. Lasciate sta. E le miniature degli eroi, ci sono miniature di eroi normali, quelle che avete conosciuto nella scatola base, per quanto manca la gente di polizia, che un po' ricorda Rick Grimes, perché era uno stretch goal del Kickstarter, ma in un prossimo video che vedrete, noi abbiamo trovato la maniera di averlo comunque. E poi ci sono dei bambini, perché in questo gioco si può giocare anche con una squadra di bambini, e i bambini hanno regole differenti, di solito hanno meno punti feriti e cose del genere, un altro tipo di equipaggiamento, si può giocare sia con gli adulti che con i bambini, e anticipazione immensa, finalmente sono riuscita ad introdurre la modalità campagna con la storia. Perché lo sapete, è la verità. Sì, tutte le missioni sono collegate, però una modalità campagna e storia manca più o meno da sempre, in Zombicide, e finalmente ce l'hanno fatta, e ragazzi è mostruosamente bello, ma ve ne parlerò in un altro video. Vi ricordo che se volete ordinare questa roba qui, e fate conto che qui davanti c'è la scatola fantasma di Dune Imperium, che non vedo l'ora che mi arrivi, dal nostro negozio sponsor Giocolibri di Asimola, sempre primo link in descrizione a tutti i video, e in sovraimpressione, al miglior prezzo sul mercato. Se questa roba la trovate sul sito, ma è finita, oppure proprio non la trovate in lista, scrivete al supporto a Corrado, il proprietario, che arrivate dal canale di Coridan, e farà il possibile per trovarveli, al miglior prezzo sul mercato, e usate sempre il codice sconto Coridan7, per avere un discount, lo sconto pari al 7% su tutti gli acquisti. Spedizioni in 48 ore in tutta Italia, e per ordini superiore ai 79 euro di spesa complessiva, spese postali gratuite. Quindi, mi raccomando, andate a visitare il sito del nostro negozio sponsor Giocolibri di Asimola, che tra l'altro ringrazio, perché anche con loro è ormai un anno che si collabora, e siamo sempre andati per file e per segno, perfettamente, anzi, anche oltre. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, e non vedo l'ora di farvici un video dedicato, appunto, per ciascun titolo, compreso anche il fantasmino qui nel mezzo. Ciao ragazzi, alla prossima!